e questo è sicuramente la famiglia del Capricoglio cos'è? Dov'è il mio amico del Capricoglio? Capricoglio, Capricoglio, Capricoglio Capricoglio, Capricoglio, Capricoglio è una grande parte del nostro lavoro e noi conosciamo il Capricoglio e noi conosciamo il Capricoglio e noi conosciamo il Capricoglio Allora, il lunedì loro sono chiusi e vanno tutti lunedì a raccogliere le erbe nei campi e nella foresta cioè sono chiusi quando lavorano lui li vede la mattina presto e va con la sua brigata fuori a raccogliere e la cosa che bisogna fare anche noi per lui è pregare per evitare che gli facciano la punta perché è un parco nazionale e le abbia dato un po' la propria quindi vanno e rischiano vi voglio rassicurare che i coperti di Atelier Amaro sono 28 quindi loro non raderanno mai al suolo un prato volato sarà sempre una piccola spesa ma non una piccola spesa